Soluzione trovata per la fermata dell'autobus in via Trave a Fano, esattamente un anno fa. Alcuni genitori di Fenile avevano denunciato all'amministrazione comunale lo stato di pericolosità in cui versava, perché situata in una zona adiacente al cantiere degli interquartieri. Una situazione di poca sicurezza, in particolar modo per gli alunni della scuola media Matteo Nuti che usufruiscono del servizio. Ma da ieri le cose sono cambiate. Dopo un lavoro durato 12 mesi, coordinato dal consigliere comunale di Noi Città, Barbara Brunori, la fermata è stata spostata a pochi metri di distanza davanti alla palestra Trave. Oggi da mamma e anche da consigliere comunale mi sento fiera di annunciare che finalmente la fermata è stata spostata. in uno spazio tanto più idoneo, tra l'altro nello spazio che poi vedremo verrà anche collocata una pensilina per metterli al riparo in caso di maltempo. L'accesso degli studenti sarà ancora più sicuro se passeranno per via Molise, strada già dotata di marciapiede. Una volta arrivati in via Trave, poi troveranno il nuovo attraversamento pedonale. Questo però non resterà l'unico intervento. Abbiamo fatto dei sopralluoghi e mappato all'interno della città, e non solo nei limitrofi, quelle che erano le criticità di pensilini in disuso e di fermate a rischio. Per cui abbiamo intercettato otto cambiamenti. Adesso il prossimo veloce sarà quello di Sant'Orso, che già annunciavamo in via divisione Carpazzi per mettere al riparo proprio i ragazzini, ed altri che annunceremo durante una conferenza stampa. Questo è stato possibile grazie ad un lavoro di sinergia insieme all'ingegnere Elenia Santini dell'Ufficio Progettazione e Traffico del Comune di Fano, il dirigente dell'Ami e l'assessore alla mobilità urbana Stefano Marchegiani, che oggi ha annunciato ulteriori cambiamenti anche alla viabilità. L'amministrazione comunale ha ascoltato le esigenze dei cittadini. Sì, mi pare che sia un metodo importante, questo nuovo, la partecipazione e il sentimento di resigenza dei cittadini su una trama viaria già consolidata, dove si possono apportare comunque significative migliorie. In più, noi stiamo facendo con lo stesso metodo le verifiche con la popolazione di diversi quartieri di Fano. Per esempio, abbiamo attivato primi incontri di sondaggio con piccole realtà di quartiere, poi lo faremo più in grande, per la via Prima Strada di Bellocchi. Abbiamo risolto un problema coinvolgendo la cittadinanza di Centinarola. Il quartiere delle Zavarise è in corso di definizione con i lavori pubblici, dove abbiamo cambiato i sensi unici. Poderino stesso è in avanzatissima fase di determinazione, pronto all'appalto. Serve un'ulteriore verifica su alcuni sensi unici, unitamente all'annunciata e prossima chiusura di via Nolfi Nord, almeno per nove mesi, tornando a una buona pratica di qualche anno fa, perché la cittadinanza, dopo diverse sperimentazioni, il limite dei 30 alle righe bianche, è comunque veramente impossibilitata una vita normale, dato l'alto flusso di quella strada, e quindi noi vogliamo riportare la normalità a una via del centro storico, essendoci ampie vie nella Sassonia, intanto a nove mesi e poi il periodo dell'estate, per non gravare su Sassonia, può tornare a essere redistribuito anche in via Nolfi. Intanto una sperimentazione per il prossimo anno in questo senso.